Nuovo colpaccio giuridico dell'avvocato ischitano Bruno Molinaro, che in estremi si è riuscito ad ottenere la sospensione dell'abbattimento di un immobile sito nel quartiere San Pietro a Patierno di Napoli ed abitato da più famiglie. Infatti, nel mentre era in corso d'opera il trasloco di mobili e superlettili e le rusperano pronte ad entrare in azione, è giunta la decisione della Corte di Appello di Napoli, che ha accolto l'articolata istanza dell'avvocato Molinaro di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea basata sulla possibile violazione del diritto di difesa. Sì, è una decisione senza precedenti che mi lascia particolarmente soddisfatto perché è destinata a fare giurisprudenza, non è una comune sospensione. Io avevo presentato una istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Europa e questa istanza è stata favorevolmente valutata dalla Corte di Appello quale giudice dell'esecuzione che ha appunto ritenuto di poter soprassedere dal dare corso alla demolizione già programmata proprio perché con quella istanza di rinvio pregiudiziale io avevo denunciato una palese violazione del diritto di difesa dei miei assistiti. In pratica avevo detto che non può lo stesso giudice che ha rigettato un incidente di esecuzione pronunziarsi poi sulla istanza di sospensione avvalendosi di un potere discrezionale limitato e magari rigettarla senza colpo ferire, senza che alcun rimedio il nostro ordinamento preveda a tal proposito. Io il rimedio l'ho trovato, è questa richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte europea e devo dire onore ai giudici che hanno riconosciuto dopo aver rigettato l'istanza di sospensione la fondatezza della tesi, infatti nel provvedimento i giudici danno atto della opportunità di sospendere l'esecuzione sino alla decisione della Cassazione, sebbene il Procuratore generale interpellato per il parere di rito avesse già espresso un avviso negativo chiedendo espressamente di voler dichiarare inammissibile questa nuova richiesta. La Corte non è stata dello stesso avviso e ha accolto le mie ragioni. Davvero è un momento molto felice per la giurisprudenza partenopea e italiana in generale, perché credo sia il primo precedente in materia, fatta eccezione per quello di Pianura del quale hanno parlato ampiamente le cronache, tempo fa nel dicembre 2019 intervenne un analogo provvedimento perché feci una istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte europea anche in quel caso, ma la casa purtroppo era già stata demolita. Il problema è proprio questo, in genere ci troviamo dinanzi a demolizioni che vengono effettuate in attesa che degli organi debbano esprimersi e che poi nel momento in cui vanno giù non hanno più motivo per farlo. In questo caso si va a far friggere lo Stato di diritto, in modo particolare alla difesa di un cittadino. Sì, questo accade quando l'Avvocato si limita a chiedere la revoca soltanto dell'ordine di demolizione. Io ritengo invece che si debba formulare una richiesta più ampia, cioè una richiesta finalizzata a far dichiarare la inammissibilità dell'azione esecutiva, in questo caso con questa formulazione specifica, particolare, il giudice è tenuto comunque ad accertare la legittimità della procedura anche quando la demolizione è già avvenuta, quindi è una questione di petitum, come dicevano gli Avvocati, di richiesta da formulare in un certo modo piuttosto che in un altro. Certamente la parte ha interesse a demolizione avvenuta ad ottenere un sindacato sulla legittimità della demolizione stessa, è perché potrebbe accadere appunto che la procedura era illegittima, in quel caso una tutela risarcitoria compete e come? È fuori discussione. Rispetto alla recrudescenza in campagna di demolizioni di casi in piena emergenza sanitaria da Covid-19 nel mezzo di una crisi economica senza precedenti e al rispingimento di tutti gli incidenti di esecuzione, la sospensione odierna dell'abbattimento di San Pietro a Patierno rappresenta un risultato a dir poco straordinario. Intanto i Comitati Campani per il diritto alla casa hanno indetto una manifestazione di protesta che si terrà il 25 maggio in piazza Montecitorio a Roma per chiedere al governo e Parlamento la definitiva soluzione di questa autentica tragedia sociale, per cui da 12 anni a questa parte, in Campania, a dimostrazione che ci troviamo dinanzi ad una colossale ingiustizia e non al ripristino della legalità come qualcuno vorrebbe farci credere, continuano ad andare giù solo casi abitati da semplici famiglie ormai da 30 anni e giammai la grossa speculazione edilizia affaristica e gli ecomostri di Stato.